buonasera a tutti ragazzi del vostro carta curva nord eccoci qua secondo video di giornata allora welcome diciamola così welcome all'inglese per fabio caserta che sarà il nuovo allenatore del ac perugia 1905 allora ragazzi io mi sono già espresso nei scorsi giorni mi sono espresso anche a livello televisivo l'ho già detto ciò che penso di questo allenatore però per il bene del mio club mi auguro appunto che possa fare solo ed esclusivamente che del bene alla c perugia diamo modo di dimostrare a questo allenatore vedremo come lavorerà appunto sappiamo che di marco de fabbrica lui opta per un 4 3 3 quindi sarà un allenatore dicono appunto molto di una molta intelligenza tattica e tecnica quindi staremo a vedere come lavorerà appunto il nuovo mister caserta ricordiamo che è il retrocesso con la juve stambia quest'anno che cosa dire ragazzi io non c'ho moltissimo da aggiungere mettermi qui a fare questa sera monologhi del tipo di che cosa vogliamo parlare che cosa non vogliamo parlare diamo fiducia ragazzi io ormai come si chiama abbasso le penne abbasso le penne rassegnato come ormai penso che sia tutta la nostra piazza diamo modo vediamo quello che succederà appunto saremo a vedere quello che succede fra un mese si dovrebbe partire stiamo nel girone b quasi sicuramente con il squadra del nord est quindi ragazzi basta poche chiacchiere e avanti fatti dato qui ragazzi di chiacchiere ne potremmo fare a bizzeppo potremmo fa chiacchiere tutta la sera potremmo stare qui a dire ma quest'allenatore fa schifo quello invece può dire che va bene invece ragazzi facciamo così disparità di tutti cominciamo seguite il mio modello andiamo avanti vediamo quello che fa ragazzi poi il campo parlerà ovviamente io ve lo dico noi partiremo con la preparazione leggermente in ritardo a differenza delle altre squadre appena pure che abbiamo finito noi l'ultima partita il 14 d'agosto ecco ricordiamoci anche che noi abbiamo finito il campionato il 14 di agosto quindi il primo mese il primo mese ragazzi non cominciamo a fare già pregiudizi e quant'altro perché il primo mese sarà tosto da lì in poi deve saper recuperare punti deve saper fare bene e quant'altro quindi arma vediamo quello che succede diamogli tutti quanti un caloroso benvenuto io in primis appunto da quale sono la voce del web della ciperugia welcome signor fabio caserta in bocca al lupo buon lavoro da parte mia portaci più in alto possibile e speriamo che fra sette otto mesi staremo qui a dire grazie mister per la serie b speriamo speriamo come fabio